Bene ragazzi sono Fede e benvenuti al nuovo video Oggi siamo sui 5 avvistamenti di Babbo Natale Ogni anno milioni di bambini aspettano senza dormire l'arrivo di Babbo Natale E ci credono davvero fermamente Penso che anche questo faccia parte della magia di Natale comunque Su internet stanno spopolando dei video di avvistamenti di Babbo Natale Probabilmente tutti i video saranno falsi Ma magari uno tra questi è vero, chi lo sa? Ascrivetemi sotto se credete a Babbo Natale 1. Nel Natale del 2012 una coppia registrò questo video Mentre stava andando in Messico su un aereo Ad un certo punto si vede spuntare una figura misteriosa vicino alla luna Sembra proprio Babbo Natale Insomma, non so cosa ci faceva lì ma magari è scappato dalla ragazza incinta 2. In questo filmato c'è un ragazzo che sta aspettando fuori dalla sua casa Babbo Natale E lo sta filmando Sì, il 24 dicembre uno che sta fuori con meno 2 gradi Aspetta fuori Babbo Natale per non so quante ore Credibile proprio al massimo, vabbè Non so perché tutti questi filmati vengono registrati con un cellulare di merda Che ha una videocamera che avrà 2 megapixel E non si vede niente Qualcosa mi sa di fake, eh? 3. Il 25 dicembre del 2014 Una bambina mentre stava camminando per le strade di New York Vide qualcosa in cielo E chiamò subito suo papà E sembrerebbe proprio Babbo Natale Io non capisco perché tutti questi Babbo Natali passano lontanissimo E si vede proprio una figura Questa qua è proprio fake secondo me Perché se si vede proprio un filetto che vola Che cazzo è? Boh 4. Anche questo video è stato girato nel 2014 Ma alla vigilia Sicuramente è un video autentico al 100% Nel quale si vede Babbo Natale Con una stella mente quella è il Capodanno Quella è così Sembra quello dietro Dove escono quelle scintille non lo so E preferisco non saperlo sinceramente Ma come sempre il video è registrato con un'occhia dell'anticristo E non si vede quasi niente Chissà come mai 5. Nel Natale del 2010 un ragazzo caricò un vlog Dove faceva vedere come trascorreva la vigilia di Natale Ad un certo punto aprì la finestra E chi incontrò? Ah, Babbo Natale Casualmente proprio nell'attimo che stava aprendo la finestra Coincidenze? Io non credo Almeno il Babbo Natale più bello che abbiamo visto qua È quello fatto meglio diciamo Con più effetti speciali Però si capisce benissimo che è fake Tutto poteva essere credibile Tranne il fatto che il ragazzo al posto che è stupito Sembrava che l'avessero colpito nei c***lioni Però vabbè Anche oggi il video è finito Spero che vi sia piaciuto Se sì lasciate like Commentate Iscrivetevi Passate al mio account Instagram Trascorrete un buon Natale con le vostre famiglie E noi ci vediamo in un prossimo video Bella raga Arrivederci Grazie per la visione!